Buonasera, io sto per ritornare a casa, vi informo solamente che è il tempo di una doccia, il tempo di cenare e saremo subito da voi in live, vi preannuncio che sarà una live infuocata alle 21.30 perché ci sarà stella, quindi quando c'è stella figura di già infuocata di suo, però oggi abbiamo ricevuto un altro attacco, siccome noi amiamo fare beneficenza, ci difenderemo dando visibilità a questi altri personaggi, quindi vi farò vedere live il loro video, lo analizzeremo pezzo per pezzo, ma c'è un punto dove non veniamo menzionati solo noi e ci sarà qualcuno che avrà qualcosa da dire a parte noi, a tra poco.